Grazie a tutti. E' un giovane fisaromonicista che ha studiato nella scuola media in dirizio musicale di Villanova a Monteleone, ha superato l'esame e la missione a liceo musicale Domenico Alberto Azzuni, abbiamo il preside Massimo Seicchi in sala, e questo ragazzo dalla dimensione musicale della scuola media accede al liceo musicale. E' uno dei due percorsi per arrivare poi al triennio più pieno del conservatorio. Antonio ci presenterà due brani, uno scuotis e una danza della galluga, e la cumparsita, un tapono. Signore e signori, Antonio Enrico Tanka. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.